Una mostra per ripercorrere 20 anni di lavoro nella tutela e valorizzazione delle opere d'arte. La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha presentato ieri i tesori della Fondazione, percorso espositivo in mostra sino al 20 novembre prossimo a Perugia, nel Palazzo Lippi Alessandri. La grande mostra che ha aperto ieri i battenti è uno spettacolare biglietto da visita di una collezione, quella creata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, su stimolo del suo presidente Carlo Colaiacovo, di livello notevolissimo. Come ha voluto riconoscere anche Vittorio Sgarbi, nel presentarla durante un evento che si è tenuto alla Sala dei Notari, alla presenza del sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ilaria Borletti Buitoni, che ha sottolineato l'importanza di iniziative di questo genere, per valorizzare il patrimonio artistico di cui è ricco il nostro paese. Sgarbi non ha esitato ad indicare la Fondazione CariPG ad esempio decisamente positivo della gestione pubblica di un grande patrimonio culturale, un patrimonio che si sarebbe potuto intendere e gestire come privato, ovvero destinato a bene rifugio da tutelare. Non solo la Fondazione non ha scelto questa linea, ma al contrario, ha spiegato Sgarbi, ha attentamente selezionato le opere via via acquisite, proponendole al grande pubblico. Opere di artisti di ambito umbro, scelte con particolare oculatezza, spesso per riunirle e salvarle dalla dispersione. Un progetto mirato alto per mettere l'uno accanto all'altro, secondo un disegno preciso, i nomi di massimo rilievo dell'arte umbra dal periodo medievale, come nel caso del paliotto che Sgarbi definisce intenso, di Matteo D'Agualdo, passando per Perugino e Pinturicchio per gli altri grandi interpreti del 500 Umbro, per svelare poi la qualità del Cerruti e confrontare il Cavaliere Perugino con l'alunno, Federico Zuccari, il Pomarancio e altri interpreti del manierismo. Non un percorso, sottolinea Sgarbi, dedicato esclusivamente alle grandi firme, ma un'indagine scientificamente inappuntabile. Umbria, ma non solo, perché nella collezione sono entrati anche grandi nomi fuori territorio, come Guercino, Carracci, Pierfrancesco Mola. L'inizio di questa collezione, quasi vent'anni fa, fu una scelta non facile, ma che il tempo ha reso strategica e vincente, ha ricordato il presidente della fondazione Carlo Colaiacovo. I tesori della fondazione hanno una mostra non esaustiva di quanto di eccezionale la fondazione abbia riunito in anni di attente acquisizioni, a sottolinearlo il curatore della mostra, il professor Francesco Federico Mancini. Gli spazi a disposizione non hanno consentito, ha detto Mancini, di aggiungere altri pezzi. Siamo tuttavia consapevoli che ulteriori interessanti oggetti di proprietà della fondazione meriterebbero di essere presentati e fatti conoscere, soprattutto di epoche storiche più vicine a noi, grazie anche ai lasciiti di privati che hanno visto nella fondazione un approdo sicuro per custodire la memoria dei propri congiunti, ma anche un istituto attento a valorizzare queste generose, al tempo stesso lungimiranti, operazioni di mecenatismo culturali.